Sicuramente la partita di oggi è una partita non positiva, purtroppo l'atteggiamento messo in acqua è stato da subito rinunciatario e passivo contro squadre di questo livello e questa caratura, partire già col freno a mano tirato, dando il fianco e subendo si subisce una goleada e purtroppo adesso è andata così, abbiamo ricominciato così, speravamo in una prestazione migliore, sabato comincia il girone di ritorno e analizzeremo questa partita, i nostri errori e ci presenteremo a Monza per giocare contro il Como sicuramente con un altro piglio.